prima partita quattro e lecce prima partita di campionato prima partita dell'anno abbiamo fatto già l'imprevisto mensile abbiamo risolto e imprevisto pre partita la media ho fatto la media a telecamere spente e la media della squadra è 62 possiamo prendere un giocatore fino a 65 vedremo se riuscimo a bene più che altro pallotta e coso ventola molto difficile voi non vedete la media quella che vi ho detto previsti pre partita siamo malissimo andalo social il 26 il giocatore estratto sarà messo fuori rosa per tutto l'episodio per tutta per tutto per tutto l'episodio per tutta la partita il giocatore estratto dall'1 11 1 demetrio vabbè poteva andare a peggio poteva andare molto peggio poteva andare veramente molto peggio le magliette sono queste adesso vi faccio vedere meglio questa è la in casa questa è fuori e questa è la terza lc e ok demetrio fuori tutta la partita c'è ferrante non c'è problema risci davare se questo è della primavera questo è della primavera portoghese statistiche così e così però c'è ancora virgola rosina è un altro della primavera va bene giordano dal primo al posto di cristea no io sono andato a vedere un po' un po' la rosa come stavamo messi ci serve assolutamente un terzino sinistro e un difensore centrale faccio qui i soldi ma che volemo piare ma che se vuoi piare con quei soldi dammi una sigaretta e sonne il buzzo fammi fumare dice ogni uomo è sulla terra per uno scopo il mio è quello di giocare a fifa e di fumare ognuno è il suo dai che c'è questa serie B non si sente nulla non sento nulla ben ritrovati alla puntata niente veramente brutto ragazzi maglie veramente del full scene dai primo pallone meroncello chissà quanto sale quest'anno il meno cristea dritto per dritto cristea no no subito no samec samec ferrante più che tutto aglie ferrà che ha incassato nero già incassato nero ferrante bravo romano bravo romano con questi quattro sacchi con questi quattro sacchi che ti ho dato occhio occhio a baschi romano vico relli va via vico vai via vico hai visto brutta palla che brutta palla di francesco e rodriguez rodriguez bravo ferrante vanno 2 a 0 se c'è la demetrio ve lo dico io ve lo dico io di francesco attenzione che tira di francesco di francesco nessuno lo chiude come al solito non può lasciare sparsi così a un giocatore di esperienza come di francesco non si può non si può giusto così è andata così qui stea buona qui stea ciciretti ciciretti l'ha persa l'ha persa ciciretti bravissimo francesconi difensore sarà a palo laterale gioco a lecce sembra real madrid ferrante ma che cazzo fai ma ferrante possiamo rivedere guarda un'altra angolazione guarda come l'ha colpita bene ma che ha fatto mamma mia partiamo malissimo ci parte malissimo in serie B no Romano ti prego ti prego Romano vabbè ragazzi è lecce è tornato in serie B dopo due anni in A cazzo è così qui le squadrette non esistono mannaggia afferrante stanga malissimo malissimo stanga prefessa bravo sorrentino bravo sorrentino vigorelli ti odio vigorelli ti odio me ne dai il giocatore me ne dai uno guarda questo ma ferrante la potresti pure bloccare però Cristo il Dio non si piano non si chiacchiano non si acchiappano proprio non abbiamo fatto un tiro in porta uno ma non si sente sentivo no ho staccato i gufi manco voi avete sentito quindi non avete sentito nulla di quello che ho detto nulla proprio nulla secondo tempo che ha avuto inizio mamma mia che hai preso calma che cosa posizione di cosa mamma mia mamma mia ragazzi io la vado o la spac trattamento offensivo Lombardi niente niente per Ciciretti Puraccio non gli è arrivato un pallone uno Vigorelli male Vigorelli male entra virgola entra virgola e Giordano e Sivoli bravo chistea la vuoi riaprire chistea niente la poteva riaprire bravo Lombardi menoncello per Ciciretti a giro mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi Romano ma pure te ma ti ci metti anche tu si aprono spazi invitanti proprio presi a schiaffi così si hanno dato il benvenuto ecco si mette pure Stanga è finita si mette anche Stanga niente niente ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre può puntare cascata solo Sorrentino è cascata da solo orco e dici presi proprio a pallonate presi proprio a pallonate guarda questo guarda questo guarda questo eh quest'anno non sarà per niente facile in Serie B quest'anno è veramente tosta quest'anno è veramente tosta quest'anno è veramente tosta mamma mia che rischio adanto al novantesimo Giordano 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 niente finisce il match giverà da dimenticare per la formazione non era da dimenticare che ha zero un caldo porco dici vabbè andiamo a vedere le prestazioni allora chi la somperà la prossima Figorelli 5 e mezzo Figorelli Figorelli salterà la prossima partita ci hanno preso a pallonate a pallonate con la prossima partita di la prossima partita Grazie a tutti.